buongiorno ragazzi anche se questo è un buongiorno no quindi penso che sta giornata sarà una giornata piena di ansia perché domani è un appuntamento importante una visita fondamentale per la mia vita sono nervoso per altre cose pure quindi sono nervoso depresso quindi penso che non farò molti video anzi anzi farò solo questo e poi non lo so non so dirvi se farò altri quindi perché poi potrei fare dei video magari vengo preso delle emozioni vengo a dire delle cose che potrei pentirmi eccetera eccetera quindi preferisco questo video adesso per il momento farò questo video oggi 4 febbraio ho letto che la giornata mondiale contro il cancro però questa secondo me è una ricorrenza che andrebbe fatto tutti i giorni perché questa è una battaglia che molta gente quasi tutti oggi perché io sento che chiunque abbia a che fare con il cancro quindi con il cancro non il tumore quello che è quindi è una ricorrenza che andrebbe fatto tutti i giorni perché questa è una battaglia che interessa la gente tutti i giorni non solo il 4 febbraio quindi non mi divulgherò oltre quindi anzitutto un pensiero che non ce l'ha fatta purtroppo il mio caro padre altri familiari che ho avuto che hanno perso in questa in questa vita per colpa di questa malattia di merda un pensiero che non ce l'ha fatta e un pensiero e un sostegno soprattutto a chi lotta e chi chi lotta contro questo male spero veramente vivamente che guarisca guariscono le persone che lottano contro questo male di merda se lo chiamo male di merda perché erosi veramente contro me stesso perché mi hanno solo causato danni nella vita io ho provato tutti i loro esistenti nella vita non c'è stata una situazione brutta che non aveva vissuto quindi posso capire quello che state provando in questa brutta situazione detto questo forse coraggio che Dio ci assista che Dio ci protegga e soprattutto Dio ci illumini possa veramente guarire queste persone perché se ci affidiamo solo ai medici non riusciamo più perché sono convinto che dietro a questi giri c'è casi farmaceutici ci sono dei guadagni un giochino fatto con gli ospedali eccetera eccetera sono anni che stanno facendo questa ricerca per migliorare le cure contro il cancro è sempre punto da capo la gente continua ancora a morire purtroppo siamo sempre punto da capo quindi c'è tutto un giochino dietro di soldi interessi solo quando la gente spende che fosse una spesa anche di soldi giustamente uno si vuole salvare e spende i soldi più possibile invece poi comunque auguro veramente a chi sta lottando contro questo brutto male auguro veramente che possa vincere questa battaglia ed è possibile ragazzi perché ci sono dei casi perché ci sono delle persone ma anche grazie a Dio di persone anche di bambini che vi vincono questa battaglia a Napoli un bambino di tre anni era Davide ha vinto la battaglia contro il cancro e ha realizzato il suo sogno ovvero quello di incontrare i poliziotti di essere vestiti un giorno da poliziotto bellissimo gesto a parte delle forze dell'ordine e quindi è possibilissimo vincere questa battaglia abbiate fiducia abbiate forza perché questa battaglia dovrà essere vinta volendo con l'aiuto di Dio ovviamente quindi vi auguro tutto il bene di questo mondo quindi vi auguro tutto il bene di questo mondo